Isole come neri capodogli. Se una sera d'estate in Dalmazia senti un canto di montagna venire da una vela all'ancora, non avere dubbi. È una barca di tristini. Gente strana che confonde le baie con le valli, le isole con le cime, le taverne d'Angiporto con i rifugi di montagna. Le loro ciurme spensierate sottolineano cantando questa visione anarchica dello spazio. All'uopo scelgono con cura baie e cale defilate, capaci di rimbombare come anfiteatri. Scandagliano orecchio il mare di casa per costruire una geografia di spazi conviviali, luoghi dalla buona acustica, rocciose casse armoniche sigillate dalla boscaglia, dove l'umidità a pelo d'acqua porta ogni bisbiglio a distanze triple che in terraferma. Successe anche quella sera, quando Calemba raggiunse il fondo della baia di San Giuseppe, sveti i giurai sull'isola di Veglia. Era appena scesa una notte immobile e senza luna, una di quelle in cui senti le uciade saltar fuori dall'acqua. San Giuseppe è un posto speciale, bastano tre voci a fare un coro. Virgilio, in piedi sotto la randa, andava di baritono. Alto e torrefatto dal sole, sembrava Basilio, il santo di Cappadocia. Disomigliava, con la barba e i capelli pettinati all'indietro, come un'icona bizantina. Silvano, lo skipper, gli andava dietro in seconda, seduto sulla cambusa con 200 litri di malvasia e sul profilo da ufficiale o strungarico si era dipinto il ghigno felice del brigante dopo l'assalto alla diligenza. Io andavo di basso, cucinando spaghetti sotto coperta. Era la nostra ultima notte in mare. Il viaggio era la fine. Avevamo segnato il territorio disseminandolo di canzoni. In tutto l'arcipelago, a Murter e Smocvica, sulla grande incoronata e nella baia di Terascica, dove altre barche alla fonda ci avevano indirizzato, applausi e persino spedito un obolo in vino, traghettato su un gommone. E poi a Premuda, Ulbo, San Cristoforo di Albe, San Gregorio e Previcce. Una lunga scia acustica che risaliva l'Adriatico fino alle ultime isole. Verso l'una ci svegliò il temporale. Da nord stava calando un neverin che seminava raffiche di traverso. Si era rotto un ormeggio. A bordo c'era un gran trambusto per manovrare in fretta e buttarla ancora più fuori. Non era notte da dormire quella. Troppo vento. Alle tre puntammo a largo. Tanto valeva navigare al buio, chiudere il viaggio in anticipo. Ci si vedeva bene. I lampi illuminavano le isole, nere come schiene di Capodogli. A nord-ovest c'era il nostro punto di arrivo. Una cima tozza, quasi quadrata, inconfondibile come il Sinai in fondo al Mar Rosso. Era il Monte Maggiore. Ucca per i croati. Il primo scoglio di terraferma. Calemba puntò rollando verso il fondo del Quarnaro, la madre delle tempeste. Si piegò sotto il vento di Levante e imboccò la Strenia Vrata, la porta di mezzo fra Veglia e Cerso. Vrata è un termine tipicamente montanaro. In lingua slava serve a definire anche la gola tra due montagne. D'improvviso, nella burrasca, tutto apparve chiaro. I conti tornavano, i nostri cori montanari cantati a fil di mare diventavano cosmogonia, percezione di una genesi. Ma certo, stavamo veleggiando sulle Alpi. Che cos'era la Dalmazia se non un sistema di valli riempite d'acqua salata, di praterie d'alghe, di banchi di pesci azzurro e di relitti di navi. Brodel, lo storico francese, aveva ragione. Il Mediterraneo era davvero un mare di montanari, uno spazio di pastori diventati capitani. E noi cantavamo con il fiasco di Malvasia nel temporale, mentre l'Alpe diventava Caucaso, Ararat, Arcadinoè. All'alba fumo nella rada di Abbazia. Era l'ora magica in cui i piano bar chiudevano, le sporgliarilliste andavano a dormire e i pescherecci rientravano alla chetichella. Virgilio avvolse la randa nella custodia, Silvano mise su il caffè. Erano entrambi alpinisti. Ed entrambi mi avevano insegnato ad arrampicare, 40 anni prima, sulle Dolomiti. Ogni tanto andavamo ancora a sgranchirci sulle paretine della Val Rosandra, a due passi da Trieste. Per tutti e tre la barca era stata una scoperta tardiva. Eppure ritrovarci lì, a girovagare, nell'arcipelago del vento, c'era stato del tutto naturale. Questione genetica, probabilmente. Trieste è l'unico posto d'Italia da dove puoi vedere le Alpi oltre mare. Ci sono sere in cui dai moli assisti alla partenza dei traghetti per il Bosforo e la bandiera turca sbatte il rosso vivo davanti alle Dolomiti innevate. Dalle mie parti, mare e montagna si toccano come le quinte di un teatro e tutti ne traggono le conseguenze. Anche gli ursi. Quando il maestrale spinge verso terraferma odore di cibo dall'arcipelago, loro scendono affamati sulla costa fra l'Istria e la muraglia del Velebit. Poi mica si fermano. Proseguono a nuoto verso Veglia e fanno strage di pecore. Un giorno, nella baglia di Buccari, i pescatori presero per le corna un cervo che nuotava e lo tirarono fino a riva. Noi eravamo lì, agli antipodi di Rimini, in fondo al Mediterraneo, all'ancora sotto una scarpata di mille metri, fitta di boscaglia, da aspettare il sole in un clima surreale da montagna incantata, tra gli alberghi asburgici un po' retro e chioschi post-comunisti un po' naif. Abbazia era Vienna, è mitte l'Europa piena, con le insegne fucsia dell'hotel Bellevue, il vecchio casino fin des siecle, la rotonda invasa da piccoli granchi color rosso scuro, i bar popolati da alte dalmate annoiate e maschietti austro-ungarici in fregola. A quell'ora, la brezza di mare e quella di montagna, equilibrandosi, formavano un cocktail speciale, fatto di fichi, ciclamini, vigne di malvasia, resine d'abete, rosmarino, salsedine, dolciastra e muschio. Nell'aria era rimasto anche l'odore delle bettole, verdure padellate all'aglio, pesce azzurro alla brace e carne di montone. Tutto il mio olfatto diceva che in ogni anfratto della costa, in ogni poro del bagnasciuga, mare di mezzo ed Europa di mezzo, si toccavano. Erano quelli l'ora giusta e il posto giusto per cominciare l'abordaggio alla lunga schietta Italia. Sbarcando, il mal di terra ci confermò l'impressione di un imbarco. La banchina beccheggiava. Ricordai che anni prima a Trieste, rientrando a vela verso Piazza Grande, insieme al costruttore di barche Carlo Sciarrelli, sotto il faro della Vittoria, un treno si era affiancato al nostro vecchio scafo. Rallentando, il convoglio aveva raggiunto la nostra velocità e lo sferragliamento portato dalla bora si era fuso con il rumore del mare. Acqua, ferro e legno avevano costruito una tale sinfonia. L'illusione dell'andatura simultanea era stata così perfetta che il vecchio aveva detto, te vedi, no semo noi che andemo, c'è la montagna che naviga. Carlo era figlio di un ferroviere. Lui stesso era stato macchinista di locomotiva e il ricordo della vaporiera generava in lui racconti straordinari. Gonfiava le guance, soffiava, fendeva l'aria con le mani, strabuzzava gli occhi, riempiva i polmoni per imitare la cassa toracica della macchina piena di fuoco e vapore a mille. Mimava la messa in moto, la potenza, la voracità, le fauci spalancate a masticare carbone. Spesso, disegnando a mano i costoloni dei suoi prototipi in legno, evocava la locomotiva impegnata nello scavalco del Semmering, ultimo passo alpino per Vienna. Solo lì, ricordava, ho provato l'esaltazione di una regata. Nessun tirrenico avrebbe detto la stessa cosa. Calemba venne ripulita alla buona. I sacchi accumulati sul molo. Eravamo eccitati come una spedizione al campo base. A est il sole sorgeva dall'onda lunga delle montagne dinariche che continuavano a perdita d'occhio verso l'Albania e l'Epiro. Stava lassù il primo monte delle Alpi, poco a sud di fiume, a 1500 metri sul mare. Pensai, per le avventure ci si imbarca, anche quando sono avventure di terra. Imbarcarsi è un verbo d'azione perfetto per chi si ostina a navigare in un paese che ha dimenticato se stesso, l'Italia. Quel monte che sporgeva appena dalla dorsale selvosa si chiamava Risniac, Monte delle Linci, e quasi nessuno sapeva che fosse quello il grande inizio. Non lo sapevo nemmeno io, quando l'avevo cercato per la prima volta. Eppure stava stampato chiaro sull'Enciclopedia delle Alpi, Istituto Geografico di Agostini, volume primo, edizione 1975, a pagina 119. Ma succede, gli italiani non conoscono la geografia. Anche i più colti credono che le Alpi comincino altrove. In Slovenia, sul Monte Nevoso, mitica scaturigine del Timavo, fiume sotterraneo che fu creduto in porta dell'Averno. Era stato il fascismo a imbrogliare le carte. Sul Nevoso arrivava il confine del primo dopoguerra. E poiché all'epoca le Alpi erano state reclutate, non tanto per produrre formaggi dal peggio, quanto per fare da sentinelle della nazione, la carta fisica e quella politica dovettero per forza coincidere. Il duce fece piantare sulla cima cippi bandiere e fasci dittori. Poi lanciò ai barbari, slavi, il grido eia eia la la e ordinò ai gerarchi di salire sul nevoso per mostrare quanto valesse l'italica stirpe. Era epoca di perboli e gerarchi, tornati a Trieste da quello che era il monte più facile delle Alpi, raccontarono con gli occhi lucidi ai giornali l'epopea di una salita segnata da fatiche in mani. Così cominciò il grande imbroglio e le Alpi smarrirono persino se stesse in cerca del grande inizio. Era l'estate del 2003, un caldo tremendo. Mi guidava Vieri Pilepic, un fiumano che conosce quelle cime selvose meglio di una martola. L'auto passò la chiesetta di Volska con i due campanili a cipolla, lo stadio di Cantrida, i quartieri proletari di fiume, l'odore dell'angiporto, i bar con il profumo di caffè alla turca, il teatro della comunità italiana superstite, poi la Riecica, l'antico Eneo, il corso d'acqua che dà il nome a Rieca fiume, incidendo il ballone roccioso un tempo confine fra Italia e Jugoslavia. Il suo ponte fu luogo di antagonismi e contrabbando, guerre e amori furibondi. La montagna incombeva sempre. Portava verso il santuario del Terzatto, alto sul Quarnaro, dove i marinai sfuggiti al Neverin appendevano il loro ex voto. O verso il Grobnik, la spianata dove si favoreggia che i troati, sempre affascinati dal dio Marte, abbiano battuto i turchi. Fiume, mi disse Vieri sorridendo, è una città perfetta. Di mattina puoi salire sulle Alpi e la sera te polto sar i piei mar. Ancora una baia, il quartiere di Costrena, poi il fiordo di Buccari. Prendemmo un sentiero verso il basso, con gradini in pietra nascosti fra i lentischi. In fondo una baglietta defilata con due vecchie rimesse di pescatori. Acqua greca, verde bottiglia, con una fonte sommersa che increspava la superficie. L'ultimo mare, l'ultima nuotata, un tuffo che fu come un battesimo, prima di una lunga astinenza che sembrava dover finire solo in costa azzurra. Sulla spiaggia aprimmo la carta delle Alpi e scoprimmo che non esisteva punto nel Mediterraneo dove lo spartiacque con un altro mare fosse più vicino. 16 chilometri soltanto per raggiungere il versante danubiano. Sembrava impossibile che l'acqua che pioveva lassù, a picco sull'Adriatico, potesse scendere sul Mar Nero. 16 chilometri, molto meno che a Trieste, dove pure il cambio di versante è vicinissimo. Era lassù, a fil di mare, che cominciavano le Alpi. In un posto di nuove vrata, lo stesso termine che i dalmati usano per indicare gli stretti fra isole, salimmo a piedi e in quei 16 chilometri, poco più di due miglia austro-ungariche, fu come passare dalla Grecia alla Bohemia. Sotto locande con calamari alla griglia e malvasia. Sopra, osterie con gulasce di orso. Due mondi separati da una scarpata feroce, dove la bora d'inverno raggiunge i 200 orari. Colà sul mare come una massa liquida, antica, pesante. Un terreno difficile, dove talvolta i treni, tra fiume e Zagabria, slittano per eccessiva pendenza. Quel pendio riassumeva tutta la barbarica differenza che esiste nel Mediterraneo fra la costa e il retroterra pastorale. Da Zara in giù lo sanno tutti. Nel 91, la guerra che ha distrutto la Jugoslavia è arrivata sempre dalle montagne, dai nervosi abitanti delle Alpi di Nariche, i monti della Luna. Quel dislivello era l'origine di tutte le battaglie. L'inizio delle Alpi non era riportato da nessuna guida. Figurarsi la strada per arrivarci dal mare. Così dovemmo tracciarla noi, a occhio. La più diretta saliva a lungo pendii in vasi di arbusti spinosi che un tempo erano stati vigne. Qui facevano un gran vino marsalato, disse Vieri, e mi mostrò una scaletta che, tagliando i terrazzamenti in vasi dalla macchia mediterranea, raggiungeva la nostra strada. La via Carolina, fatta da Napoleone, grande e dimenticata. Non fu una partenza, fu un decollo verticale, su una superficie ruvida e senza acqua. Lungo una pietraia abbacinante, sovraccarica di odori, ustionata come da acido solforico. Salimmo lenti, contro luce, in un caldo turco, ma con addosso il piacere clandestino dell'avventura dietro casa, completamente soli, su una strada segnata da paracarri antichi. Poco più in basso, migliaia di macchine arrostivano in coda per la Dalmazia. E milioni di cicali frinivano nel rosmarino. Bastò alzarsi di poco per volare con lo sguardo. Avevamo davanti il mare nel quale era finita la corsa degli argonauti. All'orizzonte, le isole di Cherzo e Lussino, dette Apsirtidi, perché nate dalle membra di Apsirto, il fratello che Medea fece a pezzi, fuggendo via mare con Giasone, per rallentare l'inseguimento del re della Colchide, derubato del vello d'oro. Più sotto costa, Veglia e Arbe, dette Electrides, perché qui arrivava l'Ambra dalle foci della Vistola. E in greco, Ambra, si dice Electron. Un terreno calcinato, quasi libico. Non una conoba, una locanda. Non un bar. Non un chiosco con bibite. Qui, col vento, le barche non hanno riparo neanche a terra. I pescatori le appendono a dei pali come le scialuppe di un transatlantico. Noi stessi non eravamo su una montagna, ma sulla fiancata di una gigantesca nave. In basso, superba nel maestrale, una vela andava a infilarsi tra Sveti-Grukur e Goli-Otok, le due isole dell'orrore dove Tito rinchiuse migliaia di dissidenti. A sud-est, verso il Velebit, il precipizio era alto il doppio rispetto a Buccari. L'autunno prima aveva bivaccato lassù, a 1600 metri, su un pazzesco belvedere di nome Rossievo-Sclonista. Non avevo potuto dormire. La bora tagliava il bosco come una lama e il terreno serpeggiava di ghiri indemoniati. Ma l'insonnia non era stata un problema. Sotto avevo l'arcipelago che pulsava di piccoli fari, immerso in un lago nero di silenzio. Sopra, miliardi di stelle. Pilepic camminava svelto. Tutto era forte lassù. La roccia, l'odore di salvia, la temperatura, la sensazione di imboscarsi in un terreno partigiano. Eravamo soli e irripetibili, scacciati dal sole su un paesaggio lunare. Tutta la costa orientale dell'Adriatico è piena di gole rocciose, balconi naturali, picchi con in vista nient'altro che pietra, mare e cielo. La valle più settentrionale, l'ultima, è quella che mi è più cara. È la Rosandra, appena fuori Trieste. Una ferita carsica piena di vento, nella quale poco è cambiato negli ultimi duemila anni. Un rifugio dove appartarsi è un lusso e la vita sembra trovare il giusto anfratto per tirare il fiato. Sui 600 metri tutto cambiò. Prati, vacche, tigli, primi abeti, prime legnaie sulla strada, prime casette con il tetto a spioventi acuti in funzione antineve. Oltre la frazione di Benkovac, il primo scollinamento a quota 900. Il mare sparì all'altezza di un crocifisso ligno sulla strada. Poi arrivammo a Fuzine, il villaggio dove servono il famoso gulasch di cacciagione in salsa di mirtillo. C'era il grande inizio, la nostra sella di vrata che in slavo vuol dire porta. Ed è per davvero una soglia che ti schiude l'universo danubiano. Ma lì cominciarono i problemi. Vrata poteva essere ovunque in quel labirinto di boschi quasi carpatici. C'era un paesotto con quel nome, un po' di case allineate lungo la strada per Delnice e Zagabria. Sarebbe bastato ma noi non ci accontentammo. Volevamo sapere il luogo esatto per poter dire è qui che si comincia. Dov'era la sella giusta? Oltre il sottopasso della ferrovia? Accanto all'ultima casa sopra il laghetto? Oppure dopo l'osteria Landravec che vuol dire bighellone? Nella frazione di Belo Selo, una vecchia vestita di nero, falciava l'erba davanti a casa. Lo chiedemmo a lei. Signora dove cominciano le Alpi? Maria, così si chiamava, ci guardò perplessa. Mai aveva saputo che nel suo villaggio finisse o cominciasse qualcosa. Da una parte o dall'altra della strada sempre montagna era. Sorrise ci mandò dall'amica Draga che curava l'orto un po' più in basso. Draga ne sapeva meno di lei. Provate con la maestra. Stranca Loncarich al numero 12. Josip, un muratore, si offrì di accompagnarci. Ormai tutto il paese si era mobilitato. Al numero 12 stanca non c'era. Apri mamma Liuba e subito si allarmò alla vista di noi ficcanaso. Cosa vogliono questi due? Chiese a Josip. Poi capì, ci indicò un'altra casa in basso verso il laghetto. Sua figlia era lì. Che facciamo? Chiesi al mio compagno di viaggio. Mollare? Mai. Ormai tutto il paese ci guardava. Puntammo decisi su stanca, che ci ricevette con tutta la cortesia possibile. Consultò encicopedie e vecchie carte, ma senza risultato. Chiederò al mio collega di geografia. Si arrese Miroslav Grugur. Non potevamo rinunciare. Ormai era una questione personale fra noi e le Alpi. Puntammo in direzione del parco del Gorski-Kotar, poco a monte, oltre una foresta di pioppi di velluto verde. Il responsabile, Marian Pintar, allargò le braccia. Che volete? Io mi occupo di rifocillare i gitanti, ma aspettate. Ci rincorse. Qui c'è l'uomo che fa per voi. E ci portò quasi a forza da un distinto signore brizzolato che stava sorseggiando un caffè. Un capitano marittimo. La faccenda si faceva seria. Presentazioni. Capitano Ivo Rudeniak di Ragusa. Un tipo cui piaceva raccontare. La presi larga. Spiegò che la Dalmazia era una terra unica. Ne elencò meticolosamente i motivi. Salsedine, maree, paesaggio, venti, flora, coste, storia, genti, musica. Noi aspettavamo fiduciosi la rivelazione finale. Ma anche il capitano Rudeniak, quando arrivò alle Alpi, si inchiodò desolato e dovette passare il testimone. Vi aiuterà il qui presente Nicola Stracicic, professore di geografia all'Università di Zagabria. Fu un altro dirottamento inutile. Sono un geografo del mare, si giustificò pomposamente il professore. Ormai era chiaro. I croati non sapevano di essere una nazione alpina. Dunque bisognava che glielo spiegassimo. Puntai deciso su Tatiana Petranovic, la bionda direttrice dell'ufficio commerciale del parco. Ascolti, le Alpi cominciano qui. Ve lo diciamo noi italiani. È una follia che sui vostri deblian non ci sia scritto niente. Tirai fuori la carta topografica. Puntai con il dito l'isoipsa più alta sulla strada che dal villaggio di Vrata porta a Delnice e le comunicai. Ecco, il punto è questo. Metteteci un cippo. Fate qualcosa. La Petranovic ascoltò a bocca aperta l'appassionata per orazione. L'orgoglio nazionale croato, normalmente prontissimo ad aggrapparsi a qualsiasi appiglio capace di rimarcare distanze dai Balcani, era stato preso in contropiede e proprio da un italiano. Zagabria, spiegai con perfidia, dovrebbe impedire alla Slovenia di vantarsi con la storia del Monte Nevoso. Vieri mi guardava divertito. Io ero finalmente soddisfatto. La missione era compiuta. La foresta ondeggiava nel vento come gli alberi di una flotta in rada, olmi, sicomori, abeti immensi, alti fino a 60 metri. La sera ci colse in una fantastica radura disseminata di escrementi di orso, cinghiale, martora. Qualcuno aveva segnalato una lince. Sotto le prime stelle dormiva anche il telefonino. L'armata perduta. Maggio 2005. Nebbia, silenzio. Sui come Neri Ramarri e il sarcofago del Duca d'Aosta, che non morì in trincea, ma volle egualmente star lì, a comandare l'armata perduta. C'è aria di neve sul carso e, 90 anni dopo l'inizio della Grande Guerra, i fanti dell'armata perduta sembrano morti un milione di anni fa. Salutameli, mi aveva detto Carlo Orelli, cavaliere di Vittorio Veneto, ultimo testimone vivente del 24 maggio 1915. E poi, guardandomi bene negli occhi, poveracci, aveva sussurrato, le hanno reclutati anche da morti. Le hanno schierati lì, in quel posto con quella lunga gradinata. Come si chiama? Re di Puglia, dissi. Ora sono qui, con una rosa gialla in mano, a esaudire la sua richiesta. Ci sono venuto anche se lui ha fatto più in fretta di me a raggiungere i compagni al fronte. La sua macchina della memoria si è appena inceppata in silenzio, a 110 anni, in un appartamento della Garbatella, a Roma. Salgo, con accanto quella voce dall'aldilà che racconta, che mi accompagna, verso la linea d'ombra nel vento che frusta i carpini. Avevo vent'anni. Partii da Napoli con la tradotta. 32esimo reggimento fanteria, brigata Siena. 330 uomini, una bellissima giornata. Il treno andava al fronte e nessuno si immaginava cosa fosse il fronte. Speravamo tutti in una guerra veloce. Arriviamo a Sagrado. Nelle case abbandonate c'era tanta biancheria pulita. La prendemmo. C'era anche zucchero. Prendemmo pure quello. Blocchi grossi come granate. Orelli era piccolo e veloce, come tutti longevi. Papà, non ti alzare, implorava la figlia Maria, ma lui si levava di scatto per ogni o non nulla. Prima che me ne andassi, aveva staccato dal muro una grande foto del suo battaglione, chiamando per nome uno per uno i compagni d'arme. Ancora la sua voce. Non capisco come possa suonare così nitida. Ci mandarono al trincerone delle frasche, quello di Ungaretti. Si chiamava così perché c'erano molti alberi, a differenza del resto del carso, che era pietraia nuda. C'era un villino, doveva essere una tenuta. Arriva una scolaresca, un liceo di Roma. I ragazzi arrancano, braga a mezz'asta, indifferenti. Sgranocchiano patatine, digitano telefonini. Il loro campo visuale non va oltre il metro. Non sanno camminare, inciampano, non vedono la scritta presente che si ripete migliaia di volte, tomba per tomba. Per un attimo i fanti di Redi Puglia sembrano rispondere a un grottesco appello, dove i vivi sono assenti e i morti più vivi che mai. Gli insegnanti fingono di non rendersene conto. La mia pena per loro è infinita. Tra noi e loro c'era solo un reticolato. Gli austriaci avevano belle trincee chiuse, stavano riparati in case matte e ci sparavano addosso da piccoli sportelli. Noi invece eravamo in buchi scoperti, obbligati ad assaltare all'arma bianca. Assalti continui, dall'alba all'imbrunire, con il sole e con il temporale. Sopra Redi Puglia, un memoriale nuovo di zecca emerge dalla Boscaglia. Il governo di Lubiana l'ha piazzato ben di fronte al grande fratello italiano, ex invasore fascista, in memoria dei suoi caduti del 1518. Per gli sloveni la guerra dell'isonso non è più maledetta, al contrario, è diventata la prima guerra santa degli slavi contro lo straniero fra le Alpi e l'Adriatico. L'isonso ora è il Limes, rinato come frontiera etnica, proprio quando la Jugoslavia non c'è più e l'Unione Europea cancella l'ultimo rudere della cortina di ferro. Sopra Trieste e Gorizia, la scritta in pietra Nas Tito ora è di nuovo leggibile, paradossale e ripulita dalla vegetazione, sull'ex terra di nessuno. Di nuovo Relli, che chiama dalla peristoria, ci distrussero. Eravamo troppo esposti. Dopo i primi assalti restammo in 25 su 330, un'ecatombe, una granata portò via la testa un compagno a un metro da me. Era tremendo, una granata ogni minuto, ogni secondo, anche di notte. Alcuni perdevano il controllo, scappavano e così diventavano bersagli. Uno si infilò in una vecchia tubazione, rimase con le gambe fuori. Una cannonata gliene portò via una. Non si mosse più. Sul fronte dell'isonso, la divisione delle memorie cominciò allora non con i reticolati comunisti della guerra fredda che fecero di Gorizia la piccola Berlino. Cominciò quando, di fronte al fascismo nascente, gli sloveni ripensarono Caporetto come la loro prima vittoria nazionale. E quando Mussolini militarizzò i cimiteri di guerra per italianizzare le nuove terre. Non sono più tornato sul Carso. Mai. Non ho più voluto. Niente di niente. Basta. Troppi morti. Là vicino c'è un cimitero con migliaia di ragazzi. Re di Puglia, no? Che vuole? Il pomeriggio non ho tanta memoria. La mattina presto è meglio. Ho la mente più fresca. Ma il momento migliore è se mi sveglio durante la notte. Quando depongo la rosa sulla cima del Sacrario, il cielo si squarcia verso il Monte Nero. Il paretone sud della piramide è spolverato di neve. Sulla destra, oltre l'altopiano delle trincee, la selva di Tarnova, con quell'onda boscosa lunga, quasi atlantica. Alpi basse ma nevose, al confine tra due climi forti. Dal Monte Nanos, proteso verso sud-est come la prua di una nave. La sera puoi vedere, nello stesso istante, ai due estremi dell'orizzonte, il viola pastello della Pannonia e il rosso sangue del Mediterraneo. Vado verso la Dolina dei Cinquecento. Conteneva un ospedale italiano da prima linea, con annesso cimitero. Il nome verrebbe dal numero degli scheletri trovati sul fondo. Un freddo becco scende dalla selva di Tarnova, verso Monfalcone. Macello della gioventù. Attorno, due posti di guardia ricostruiti dalla Proloco, il tendone del rancio per i turisti, una decina di ragazzi in divisa austriaca e italiana per la rappresentazione della vita di trincea. Si muovono come soldatini di pezza. Il trincerone delle frasche non è lontano. I miei compagni erano in maggioranza calabresi. Non si capiva niente di quello che dicevano. Bravi e analfabeti, io mi prestavo a scrivere lettere per loro ai familiari. Patto i denti in fondo alla dolina. Sono prigioniero dell'inversione termica che intrappola nell'avvallamento l'aria fredda più pesante. C'è un signore distinto in divisa grigia austriaca del 1518. Fa parte della ricostruzione storica. In tasca gli trilla un telefonino con la suoneria della marcia di Redeschi. Racconta che dalle trincee escono continuamente cose nuove, borracce, giberne, zaini, persino lettere. Tutto è appena successo, ma l'odore, fango, escrementi e ancora Neandertal. Il tempo del mammut e del rinoceronte lanoso. Orelli non vuole andarsene. Ah, lei non sa quanto arretrata fosse l'Italia a quei tempi. Gli austriaci erano ricchi, i soldati avevano quello che volevano, anche la cioccolata. Ce ne siamo accorti solo quando abbiamo preso una loro trincea. C'era talmente ogni ben di Dio che avevamo paura fosse una trappola, roba avvelenata. Così demmo da mangiare prima ai prigionieri. La cucina da campo sfora una zuppa calda. Per il sentiero a spirale della dolina scende una piccola banda. Gli uomini si schierano, attaccano le canzoni di protesta dei fanti mandati a morire. E timorosa c'avete che mi son già c'avà, composta dai soldati trentini in divisa austriaca. Poi la più terribile. Gorizia tu sei maledetta. La grande guerra fu l'ultima a produrre canti e leggende. Oggi è impensabile che l'Iraq dia ai posteri qualcosa di simile alla leggenda del piave. Sotto le bombe, ripetevo le filastrocche imparate da bambino. Quelle non si dimenticano mai. Una faceva. La serva del curato ha partorito, ha fatto un chierichetto tutto pelato, che rassomiglia tutto al signor curato. L'ho imparata a sei anni. Adesso veda quanti ce n'ho e faccia un po' il conto. Trieste fu Austria fino al 18, eppure per la mia famiglia il Carso fu solo un rombo lontano verso Monfalcone. Mio nonno il Carso non lo vide mai in tempo di guerra. Per Vienna i tilestini erano sospetti, parlavano italiano e potevano fraternizzare con il nemico. Per questo erano stati schierati in Galizia, sul gelido fronte transcarpatico, sotto il tiro dei cannoni dello zar. Anche mio nonno era stato mandato in Galizia, e non senza ragione. Suo fratello, ex deputato del Parlamento di Vienna, aveva disertato per passare agli italiani. Il vecchio non subì rappresaglie, ma fu tenuto sotto controllo. La uff, la uff, corri, che gridava il sergente maggiore, boemo di Olomouc, per dirgli di sbrigarsi con il lavoro di retrovia. E lui correva, e rideva, rideva, e correva come il soldato Sveik. Da buon testino non riusciva a prendere sul serio nemmeno la guerra. Non aveva paura di morire, il fante Orelli Carlo, neanche a 110 anni. Tutti dovemo traslocare, diceva. Alla fine, se cambia casa tutti, ridacchiava. Vede, quando ne parlo, le figlie si allarmano. Ma io gli dico, lasciate verde, non vi state a preoccupare. Ma ancora non è l'ora. Parlandomi si era arrabbiato una sola volta, pensando al re. Negli assalti la nostra unica parola era Savoia. Savoia capisce? Noi gridavamo il loro nome, ma loro non fecero una bella figura con il fascismo. Non la fanno neanche ora. Mamma mia, sapesse quante cose ho da dire. Non mi basta il tempo a raccontare. Ho visto una seconda guerra mondiale. Il fascismo con i suoi discorsi sulla grandezza della nazione. La gente fu soggiocata. Ma io ero socialista. Leggevo l'avanti. Capivo che erano buffonate. Parto per Gorizia. Il buio mi inghiotte. Sulla strada qualche locanda, casermette della polizia di frontiera. C'è passaggio di candestini, prostitute, pare, e gli sloveni fanno pattuglie miste con gli italiani. Vai a Gorizia? E che ci vai a fare? Mi chiede un avventore dal bar. Gorizia? Che mortorio. Che noia. Non succede niente. Bisogna essere matti per abitare là. E è una tiritera che conosco. Per i triestini Gorizia è Venezia Giulia. Per i friulani è Friuli. Per gli sloveni semplicemente roba loro. Gorizia di chi sia nessun lo sa. Per averla scatenammo sei offensive. Ora i turisti non si fermano nemmeno per darle un'occhiata. Vanno direttamente a Nova Goriza. La città gemella inventata da Tito per fronteggiare il capitalismo. Lì sì che c'è vita, ti dicono tutti. Gioventù, casino, spogliarellista, musica fino all'alba. Un bel luogo mangia soldi. Perfetto per gli italiani. Santa, maledetta, italianissima, slava. Delizia, inferno, altare, città delle rose, corona di spine. Ogni volta che ci vado mi chiedo cosa sia veramente Gorizia. Inondata di retorica, strangolata per mezzo secolo da un confine assurdo. Luogo simbolo conquistato a prezzo di sofferenze atroci e poi quasi sparito dalla geografia del paese. Successe che nel 18 venne a galla la verità. Il contado goriziano era quasi tutto sloveno e per giunta comunista. Così la provincia di Gorizia, appena conquistata, fu prima cancellata dalle mappe amministrative e poi ridotta a un moncherino fra Udine e Trieste per occultare la presenza slava. Un giorno a Gorizia mi capitò di assistere a una messa dei reduci della decima massa fascista, battutisi fino all'ultimo su quei monti contro l'avanzata partigiana. Uno di loro ammise di aver scoperto solo nel 45 che lì intorno si parlasse sloveno. Non ne sapevamo nulla, disse. Ma come? Pensai. Non parlavano da soli. Molti dei nomi della Grande Guerra, luoghi come Kolovrat, Zagora, Podgora, non bastavano a capire. Oltre la stretta dell'Isonso, in mezzo alle montagne, oltre il fronte che non c'è più, Caporetto è già oriente. Terra di racconti foschi, fanciulle rapite dai turchi, amanti infelici, il camoscio bianco e maledetto dalle corna d'oro i titani e un unico tempo felice, quello del mitico re Mattias. Il museo della Grande Guerra è solo l'ultimo anello di una cupa catena di eventi. La rassegna fotografica è esemplarmente cruda, facce barbute da mujahidin, mutilazioni, occhi febbrili di soldati nella neve, cannoni enormi tirati a braccia su periprati, migliaia di feriti che aspettano il treno, italiani falcidiati dai gas. Un po' di verità su un confine inondato di retorica, mausolei e monumenti alla vittoria. Il 29 luglio, quando c'era il grano, è nata una bambina con una rosa in mano. Le ragazzette l'amor non sanno fare, ma noi ragazzi glielo faremo sentire la sera dopo cena quando si va a dormire. Un'altra voce che torna, quella del bersagliere Delfino Borroni, classe 1898, da Turago Bordone, Pavia. L'ho appena incontrato nella casa di riposo San Giuseppe di Castano I, tra Milano e Varese, dove mi ha cantato a voce alta, cieco come Omero, la canzone del lungo treno che porta al confine, un giorno di maggio del 17. Stava sulla sedia a rotelle, fuori piovevano fiori di acacia, la giornata era limpida, le Alpi Lombarde brillavano dell'ultima neve, ma il racconto del vecchio portava a Oriente, verso le montagne di Caporetto. Sul Monte Maio la trincea degli austriaci era così vicina che sentivamo le voci. All'inizio alcuni di loro uscivano di notte, si arrampicavano sugli alberi e ci sfottevano facendo chicchirichi. Sopra la valle, attorno al Monte Nero, i fulmini crepitano come contraere. Verso il crinale è come se un gigante stesse spostando un armadio sul pavimento di un solaio. Colpi, cicolii, rimbombi, la cima è una calamita imbottita di ferro. Non miniere, ma armi del 15-18, un immenso cimitero arrugginito. Da 90 anni ne portano via pezzi e ce n'è per altri 90. E sopra tutta quella ferraglia, i frequenti temporali alimentano ancora leggende. Cismon, Pasubbio, Campomulon, Val Sugana. Ripasso la moviola dell'incontro con Borroni e il film scorre senza sbavature verso un giorno d'ottobre, quando un treno parte per un posto lontano, di nome Caporetto, da raggiungere in fretta, sull'isonso. Borroni ricorda il torrente, la collinetta davanti al paese, la Vallazza, la Val Polenta, il Monte Nero con la sua ombra immensa, l'arrivo la notte del 23 a tappe forzate. Ciascun uomo con quattro caricatori, due gallette e due scatole di carne. Piove, tira un vento gelato, il battaglione occupa due casette sulla collina. Sono piene di castagne, i soldati accendono un fuoco, le arrostiscono. Io ne mangiai troppe, dovetti andare in mezzo alle frasche a scaricarmi e proprio in quel momento sentì gridare il comandante. Dov'è il quarto plotone? C'è il nemico! Fatevi sotto che gliela facciamo vedere! Poi vedemmo un formicaio di truppe, una nuvola di uomini in grigio, i tedeschi che arrivavano da Caporetto, lì a 150 metri. Mi siedo sui prati a guardare le grandi manovre delle nubi sul Monte Nero e il Colovrat. Ora sono colpicupi, duplicati dall'eco verso il Monte Canin. Gli appunti dell'incontro Lombardo, quella memoria del Reduce acchiappata per la coda, trovano un perfetto riscontro nella topografia dei luoghi. Poco è cambiato. 90 anni non sono niente. 24 ottobre, verso mezzogiorno. Il sergente di ferro manda nuovamente Borroni di vedetta. È una missione pericolosa, la posizione è circondata. Delfino protesta, ma esce lo stesso. Si acquatta fra due tedeschi morti, intuisce ombre in movimento, vede due tedeschi anziani con la barba non fatta e il sottogola. Lì il vecchio cominciò a raccontare al presente. Eravamo nel clou dell'azione. Mormoro ai miei. Stanno arrivando. Ma dalla trincea mi rispondono. Come? Glielo ripeto, stavolta senza risposta. In silenzio vede i tedeschi che passano strisciando uno sull'altro. E solo allora che arriva l'urno del nostro comandante. Si salvi chi può! E poi comincia la fuga sotto le mitragliatrici del nemico. Quando arriva il momento della rotta, il bersagliere mi rovescia addosso dettagli, nome, nomi, date, odori, sapori, canzoni, rumori, maledizioni, pioggia, fango, fame e paura. Borroni non era solo uno che ricordava. Borroni era il ricordo. L'evento mitico lo abitava, lo riempiva, diventava metrica, odissea. La sua voce correva più veloce della mia mano su un notes. La sera del venticinque arriva il maggiore a cavallo. Continua a piovere. Lui ci ordina di tenere l'ultimo crocevia prima di Cividale. Ormai i tedeschi dilagano. C'è una tremenda sparatoria. Gli altri non usano fucili né granate, solo mitragliatrici. E lì, è lì che il nostro capitano ci lascia la pelle. Rosana, signor Umberto si chiamava, di Roma era. Un sardo, Cicolella, che mi aveva fatto una sgarberia e con cui non parlavo da settimane, viene ferito alle gambe. Mi tende una mano, mi dice perdonami. Io me lo carico in spalla, ma i tedeschi sono dappertutto. Mi fanno prigioniero. Sono disarmato. Uno di loro urla, non sa se spararmi o infizzarmi, ma un altro lo calma e mi accompagna in mezzo ai platani con altri italiani. Potrebbe essere finita. E invece comincia il tempo della fame. Non c'è da mangiare dietro alle vittoriose linee tedesche. Cercavo sempre di scappare. Era meglio morire di una fucilata che di media. Mi riprendevano. E scappavo di nuovo, finché trovai un contadino che passava per i campi con una carriola di retame. Gli chiesi del pane. Lui disse che per me non ne aveva. Ma poi uscì la moglie, gridò, puteo! E mi diede un bel pezzo di polenta con in mezzo un buco pieno di sugo rosso con fagioli. Ma ormai era l'ottobre del 18. Il fronte era a pezzi. La cavalleria italiana sbucava in silenzio dappertutto nella pianura. Uscì allo scoperto, mani in alto. Urlai che ero italiano, che non mi tirassero addosso. Intorno le ultime sacche di resistenza sparavano e poi alzavano bandiera bianca. Era finita. Finita! Sembrava impossibile. Valle a capire gli orsi. Risalgo l'isonso in bici fino a Caporetto. La conca è verde, piena di alveari. Gli sloveni sono matti per le api. Se le portano dietro con le loro casette colorate, sistemate su rimorchi. Le spostano a seconda della fioritura. E poiché in Slovenia ci sono moltissimi orsi, massima densità europea. È fatale che i suddetti si facciano scorpacciate leggendarie. Per questa golosità sono stati ribattezzati medved, dallo slavo med, che vuol dire miele appunto. Alla locanda Lavrencic c'è un tipo che viaggia su un vecchio bus convertito in alveare. Una notte racconta, mentre dormiva sotto un tiglio, un orso, gli è entrato nel bus attrezzato. Mima la scena in modo esilarante. Il trambusto, il mezzo che traballa, il ladro che esce dal portellone con aria furba, leccandosi i baffi, colmo di sovrana beatitudine, seguito da una rube di insetti inferociti. Qui i bestioni scendono a valle a papparsi le mele fin dentro i giardini e scelgono attentamente le migliori, quelle non trattate con anticrittogamici. Gli orsi li vedi riprodotti sulla parte soleggiata degli alveari, degli ex voto delle chiese, nei menù delle locande e anche nei libri ricchi di leggende sulla loro insaziabile e anarchica goloseria. Allarmano sindaci, parroci e soprattutto l'onnipotente alleanza contadina slovena, partito che condiziona qualsiasi alleanza di governo. Sono così numerosi fra i 4 e i 600 che a Lubiana ne fa abbattere periodicamente a decine, più che una caccia vera, una mattanza per turisti italiani e tedeschi, come non si vedeva dai tempi del maresciallo Tito. Per lo Stato un affare da 10 o 50 mila euro a capo, a seconda dell'imponenza del trofeo. Altri animali sono venduti a paesi vicini, che ne sono rimasti totalmente privi dopo i massacri del primo novecento. Vida, l'orsa più zingara delle Alpi, nel 2002 girò per migliaia di chilometri e fu fermata, con leggere ferite, solo da un frontale con un'auto una notte sull'autostrada del Brennero. Importata dalla Slovenia con altri cugini per ripopolare i parchi del Trentino, appena sbarcata nel nuovo territorio fece il diavolo a quattro, seminò gli zoologi, beffò i radar dei guardacaccia, passò l'Adige a nuoto, sfiorò il confine austriaco, attraversò indenne la direttrice più trafficata delle Alpi, scorrazzò dai boschi della pusteria alle crode delle Dolomiti bellunesi. A quel punto, dopo aver riempito le pagine dei giornali italiani, più di una principessa polacca e alimentato la leggenda di un suo ritorno alle natie foreste dell'est, piegò a occidente contro ogni aspettativa degli umani, fino a incontrare al 1 e 15 di un mattino di primavera, all'altezza di ora, gli abbaglianti del signor Michael Funes, anni 50, passaporto tedesco, in viaggio verso l'Austria con la sua Mercedes. Fu roba di un attimo, il botto, la zappa fratturata, il bip del collare spia che si spegneva sul display facendo scattare i soccorsi, poi l'anestesia, la fasciatura, il rilascio semisegreto in una valle a ovest della Damello. Quelli del parco l'aspettavano da giorni al barco dell'autostrada, l'avevano già attraversata una volta a maggio, il miracolo poteva ripetersi. All'altezza di ora c'era anche un sottopasso e la posizione segnalata a radiocollare faceva sperare che imboccasse proprio quello. Ma gli orsi non vanno dove tu decidi che vadano. La strada se la scelgono loro, sono animali solitari e individualisti, hanno un radar interno che li guida. Anche Vida ha ignorato il percorso più logico, ha scavalcato la rete del punto più basso, nel punto più basso, e ha tentato l'avventura per svegliarsi quindici ore dopo in montagna. Zoppa e imbottita di tranquillanti e ciondolare spaesata in una radura alle sconosciuta. Tutti gli spostamenti di Vida testimoniano un'incontenibile voglia di libertà e una ribellione contro le barriere degli uomini. La fuga è durata quattro mesi, ma non ha nemmeno scompigliato il pelo fulvo dai riflessi Mogano. In maggio, appena liberata sul Brenta, eccola già che naviga per 6-700 chilometri in una settimana sola. Dorme di giorno, si muove di notte, passa la Val Venosta, la Passiria, l'Isarco, l'autostrada del Brennero, la Pusteria, fruga nei massi della Val Gardena, valica il Pizboè, sfiora Cortina, poi una sosta di due mesi sui monti di Agordo, lascia pensare a una sistemazione definitiva. Così non è. Vida riparte, di nuovo veloce nel vento, è come il vento. Traversa le pale di San Martino, valica il passorolle, scende su Predazzo e segnalata in pieno centro a Castello di Fiemme. Valle a capire gli orsi. Fanno ciò che vogliono. Quelli sloveni, che sono un esercito, sfuggono spontaneamente al sovrappopolamento e emigrando in Italia, dove l'abbandono degli alpeggi crea condizioni ideali per la loro sopravvivenza. Negli anni 80 un orso è arrivato alle porte di Trieste, ha sterminato un pollaio e poi è finito, spaventatissimo, in mare. Altri, come abbiamo visto, passano a nuoto il golfo di fiume e poi sbucano nelle isole croate a due passi dei campeggi per i turisti. Anche il Tarvisiano e la Carinzia sono pieni di adulti neoimmigrati della Slovenia. Nel Pordenonese l'orso Franz è già una leggenda. Ogni Pasqua scende a valle e si porta via una pecora. Nessuno sa dire se Vida, color del Mogano, abbierrato tanto per scappare, per tornare o solo per la straordinaria curiosità che contraddistingue la specie. Pare che i plantiradi non abbiano bisogno di spostamenti coatti. Si muovono da soli, animati da una febbre esplorativa di cui ancora non si è misurata la portata. Disdegnano le barriere e anche i varchi che l'uomo offre loro. A sud di Lubiana è stato scavato apposta per gli animali un varco enorme sotto l'autostrada, ma gli orsi continuano ostinati a passare 300 metri più in là, rischiando la pelliccia. Forse la scelta nomade è solo ribellione. L'orso è un animale culturale, deve esplorare il terreno, prima di scegliere dove insediarsi. Se lo forzi, può avere reazioni strane. Bisogna lasciare all'uomo e all'animale il tempo di accettarsi a vicenda. E poi la bestiaccia bruna è un gran predatore, sta in cima alla piramide ecologica. Vive di bacche, insetti, miele, radici, ma ogni tanto si ricorda di essere anche carnivoro. Il cibo la madre gli ha insegnato a prenderselo, non a riceverlo dall'altri. Così, se a un orso dai del cibo, può capitare che ai suoi occhi tu sia solo un pezzo della confezione che lo racchiude. La carta della caramella. Piatto dei lumache a Lilliput. Dopo Caporetto, l'odore umido dell'Alpe si fa più forte. Dalla bici vedo i contadini che facciano in fretta prima della pioggia. Incrocio ciclisti, auto con deltaplani e canoe sul tetto. Tutto dice la familiarità degli slavi subalpini con l'aria aperta. Dopo Plezzo, un cimitero austro-ungarico. 546 croci, schierate senza nome e una lapide in granito, appena sistemata dalla croce nera, sezione di Salisburgo. Appena il tempo di una preghiera ed è già la Val 30. Porta del Trilav, il tricorno. Pedalo sotto il cielo carico di elettricità, sfioro gitanti con scarponi, zaini enormi e faccele da altri tempi. Trilav vuol dire monte a tre teste e gli sloveni ci vanno almeno una volta nella vita. Serissimi, come musulmani in pellegrinaggio alla Mecca. Quel monte è il simbolo della loro diversità slava, un po' scandinava e un po' alpina. Comincia la pioggia e anche la salita vera. Pareti grigie strapiombanti. La montagna ha una severità glaciale. Mille metri sopra c'è il passo Versic, un nome che suona come un distillato di fatica. La valle si stringe, il rumore dell'isonso la riempie tutta. Asfalto traslucido, legnaie, una locanda. La casa di Anton Tozbar, guida e cacciatore cui un orso porto via mandibola e lingua con una zampata. Tuona, ragazze in bichini scappano dal fiume. Ho voglia di un'altra birra, ma non si può con venticinque tornanti da fare. Vado così piano e il traffico è così scarso che vedo ogni insetto sull'asfalto. Un ragno mi taglia la strada, un moscone mi sorvola, fa il rumore di un jet a 10.000 metri. Poi una farfalla giallina si posa sulla maglietta arancione. A ogni curvone tutto cambia. Il tornante di destra spalanca la vista sul tricorno. Quello di sinistra annuncia lo Javolvek, altro gigante delle Giulie, dove nel 1916 combattì Erwin Rommel, prima di diventare la volpe del deserto. A quota 1200 torna il sole. L'asfalto bagnato prende a fumare. Poi tutto si apre. Un grande mezza costa conduce allo spartiacque verso il Danubbio. Ed è il passo con il rifugio Tikariev. Una che sta sulla strada. Salsicce e birra, finalmente. Birra con le corna, si usa chiedere qui. Quella che ha l'etichetta verde con il camoscio bianco del tricorno. Il popolo sloveno, banchetta ordinato sulle panche. Ho accanto una bionda, grassa, con due bambini. Protoncini di ciclisti. Una coppia di vecchi imbrage corte, con i bastoni telescopici. Coppie di deltaplanisti. L'Italia è lontanissima. Tuffo verso Craniscagora. Tornati inserciato, la bici vibra tutta. Riprende a piovere. Lo stradone pare una Paris-Giroubaix. Le montagne scompaiono nelle nubi. In discesa il caldo aumenta. Poi la grande fuga finisce sui brati che fumano come un bagno turco. Ogni cosa intorno si premura di dirmi che la Slovenia non appartiene ai Balcani. Che la più piccola delle patrie alpine oggi non guarda più a sud-est, ma all'Europa che conta. Bandiere stellate dell'UE dappertutto. Gerani alle finestre. Piste ciclabile. Pulizia ospedaliera. Banche e concessionari illuminate come alberi di Natale. Tutto è straordinariamente ordinato. Come in Austria. Eppure non è Austria. È qualcos'altro. L'ansia esagerata di somigliarle. Un albergo di Radovrica, capitale alpina degli alveari e del miele. Gli avventori mi guardano per capire da dove vengo. Non ho targa. Capisco di essere una specie di apolide. Un signore ben vestito guarda la mia bici infangata. Chiede del percorso fatto. È un agente teatrale. Lavora a Lubiana. Beato lei che è italiano. Rispondo che non capisco. Penso che dietro magari c'è una trappola. Almeno la gente sa dov'è l'Italia sul mappamondo. Ora capisco. Spunta una sindrome che ho già sentito altrove. In Belgio e in Bohemia. La paura di sparire dei piccoli popoli. Lei telefona a Londra e propone una mostra a Milano. Nessuno le chiede dov'è Milano. Vero? Vero. Invece a me capita di chiamare per proporre una mostra in Slovenia e dall'altra parte della cornetta sento un imbarazzato silenzio. Non sanno dov'è il mio paese. Allora lei che fa? Mi tocca dire. A nord est dell'Italia. Gli ricordo perfidamente che quando c'era la Jugoslavia era più facile. Chiunque sapeva piazzarla sulla carta d'Europa. Lui in cassa. Non posso darle torto. Abbiamo voluto la nostra bicicletta. E ci tocca pedalare. Dobbiamo imparare in fretta. Lo saluto un po' pentito della mia perfidia. Alle porte di Lubiana la stradale mi multa perché non ho le luci di posizione. E non porto il casco. Intorno è pieno di indigeni che circolano su due ruote nelle mie stesse condizioni. Ma è inutile farlo notare. Sono regole europee. Dicono con sussiego di agenti in una specie di inglese per mostrare a me e solo a me italiano che la Slovenia è in Europa e che c'entra da prima della classe. Facevano lo stesso ai tempi di Tito. Applicavano le regole del comunismo autogestito con rigidezza quasi comica. Ma prendendosela solo con gli stranieri. La polizia lubianese è la più inutilmente rigida d'Europa. Un giorno all'aeroporto di Brnick due sadici agenti mi obbligarono a bruciare nel metal detector un mucchio di pellicole ultrasensibili già impresse. Film che in qualsiasi altro aeroporto, inclusa la rigidissima Tel Aviv, sarebbero stati controllati a mano. Gli odiai non solo per il danno irrecuperabile ma anche perché ripudiavano proprio ciò che più amavo della slavità. Quell'atteggiamento conciliante verso la vita che il parlare quotidiano sintetizza nella frase nema problema. Da allora ho dicertato i voli sloveni. Con i paesi che si amano ci si prende talvolta il lusso di piccole e inutili rappresaglie. La capitale è immersa nella nebbia. Sembra adagiata sui fondali del grande mare pannonico, cui è collegata attraverso l'alta valle della Sava. Costruita ai bordi di una palude bonificata, chiusa in un catino di montagne, sfiata umidità al primo accenno di freddo e poi tiene intrappolata una banchisa di bruma per settimane, anche quando attorno splende il sole. Nel grigio diventa una piccola praga, con le sue statue barocche, i ponti con le statue di San Nepomuc, le fumose locande alla Boumil Habramal e un fiume, la Lubianca, che serpeggia sotto il castello come la moldava sotto il colle del Adrkani. E a quel fiume, nel nevoso dicembre del 91, affidai una barchetta di carta con su scritto un pensiero contro la guerra. Dopo la guerra in Croazia non volevo che la peste attecchisse in Bosnia, mi illudevo che non tutto fosse stato deciso. Ci scrissi su una lettera in inglese, la battezzai Mir, pace. La deposi con cura sulla corrente e poi la vedi sparire nella notte tra le vecchie case austriache, i lumini natalizi e i sali cichini sulla Lubianca. Sognai per giorni che, imboccata la Sava, quel messaggio navigante arrivasse a Belgrado, sotto il ponte Brankov, alla confluenza con il Danubio. Probabilmente finì negli ingranaggi di qualche centrale energetica, prima ancora di uscire dalla Slovenia. Con la Sava, che la sfiora a nord, il rapporto di Lubiana non è affatto intimo. La città sembra rinnegare il grande fiume Slavo, che porta al cuore dei Balcani e rintanarsi verso le Alpi per scimmiottare l'Austria Felix. Fa come i tedeschi di Bozzano, che evitano di guardare all'Adige, semplicemente perché, portando a sud, il fiume stabilisce con l'Italia un legame geografico che non si vuole ammettere. Piove sulla paciosa capitale dello stato di Lilliput, profumata di torta di miele. Nelle piazze niente statue di generali con spade sguainate come Croazia. Qui l'inno nazionale non parla di sangue, ma di buon vino. E la mitologia esalta donne anziché maschi eroi guerrieri. Invece che battaglie campali, la festa nazionale evoca la morte di un poeta, Franz Preseren. L'Ubiana non ha da riesumare alcun Kosovo polie, la scoffitta patita dagli ottomani sei secoli fa, che i serbi evocano ancora per fomentare l'antagonismo con il turco, con i risultati devastanti che si sono visti. Ceno con un piatto di lumache, in una taverna dal nome Mrak, che vuol dire ombra, in mezzo a brindici esplosivi e risate corali. Fuori la città tace nelle brume, esprime quietamente il proprio allarme per gli eventi globali che sorvolano il paese di Lilliput. Nella piccola nazione alpina esiste una costante paura di schiacciamento, ma senza arsenali di miti bellicosi da ergere a difesa. Il mondo asburgico, di cui la Slovenia fa parte, esprime semmai autoaggressività, suicidio e alcolismo. Qui c'è Kafka nell'aria, una burocrazia felpata e sfuggente, un microefficientismo dove l'autorità contro cui ribellarsi si nasconde sempre e non sai mai di chi mandare al diavolo. Un mondo sicuro, direbbe il dottor Freud, che non trova padri forti da uccidere per costruirsi l'identità. L'unico, forse, fu la vecchia Jugoslavia. A un tratto, in sala da pranzo, il clima cambia. L'allegria si spegne e comincia il mugugno. A un tavolo vicino, un omone si lamenta con gli amici che i bar sono sempre più pieni di zingari, serbi o bosniaci. ceffi con giacche di cuoio nero che non parlano sloveno. Quando saranno cresciuti i numero formeranno partiti, minoranze e alla fine si ritaglieranno le loro province speciali protette da Bruxelles. Nella sala quieta si avverte la presenza di un tarlo che rosicchia le fondamenta del paese. Il rancore viene ruminato a bassa voce, educatamente, all'austriaca. Ma è proprio in questo mondo ordinato che addormenta i conflitti che si sentono con più forza i mal di pancia del populismo alpino. Lo stesso che ha generato la Lega nelle valli del nord Italia. La paura dei piccoli popoli amplificata dalle valli ed elevata al cubo dall'introversione montanara. Un potenziale pensiero xenofobo che trova eco in molti partiti. Un giorno mi hanno spiegato che, mentre il razzismo militante di tipo classico è in diminuzione, in Slovenia cresce un populismo di centro, becero e localistico, un po' come nel veneto dei mesi ruggenti dall'assalto del campanile di San Marco. Tonci Kuzmanic, leader locale della guerra alla xenofobia, ha detto che la gente comincia a considerare lo Stato una proprietà privata. Gli sloveni dicono questo posto è mio. È mio nel senso che prima era di mio padre e prima ancora di mio nonno. Tutti gli altri sono ospiti e devono comportarsi come tali, anche se hanno la cittadinanza, anche se rispettano le leggi. Non è lo Stato-nazione in senso classico. Quello, almeno, aveva in sé qualcosa di strategico. È lo Stato in senso contadino, in termini di terra recintata e parrocchia, il piccolo campo sotto il sole. È anche la sindrome di Lilliput, la voglia di chiudersi in se stessi, di cercare fra le ossa degli antenati per dividere il mondo tra autoctoni e no. Molti si chiedono se l'Europa unita valga davvero la pena. Perché scappare da una federazione per entrare in un'altra? Siamo fuggiti dal mondo dei poveri solo per essere comprati dai ricchi? E se l'Europa fosse un'altra Jugoslavia, un mostro burocratico centralizzatore che uccide l'identità e poi anche se stessa? Da qui la fuga in due direzioni, antitetiche e incompatibili fra loro. L'americanismo da una parte e l'ipertradizionalismo dall'altra. Roba da mal di testa. Con gli studenti è un'altra musica. Me ne accorgo nei bar lungo il fiume. Dicono che le ricette mediterranee hanno conquistato l'Ubbiana. Le grigliate alla turca suscitano sempre meno rifiuti nazionalistici e i giovani affluiscono in massa ai concerti di Goran Bregovic o del serbo Giorgie Balasevic, i curanti delle accuse di jugo nostalgia. Quasi distinto, la piccola Slovenia cerca rifugio lontano dalla propria pancia alpina, in periferia, verso le vigne dolci del suo angolino di Pannonia, poi 40 km di costa triatica. Per tanti quel frammento di Mediterraneo è assai più di uno sbocco al mare. È la via d'uscita dalle derive claustrofobiche. La Slovenia ha un vantaggio enorme, mi dice una studentessa di nome Milena. È un paese alpino, ma non solo. Ha una forte vocazione mediterranea ed è anche un paese pannonico. Insieme queste tre dimensioni gettano le premesse di una mentalità più aperta al mondo. Incordata con l'uomo nero. La tana di Jorg Haider, governatore della Carinzia e uomo nero del populismo alpino, sta in una valle stretta tra il fiume Drava e i confini con la Slovenia, con in basso un torrente costeggiato da vecchi mulini e in alto radure disseminate di arnie dell'autoctona ape carnica, iperattiva e ronzante tra margherite e rododendri. È la Barental, la valle degli orsi. Una strada serpentiforme sale fino a una locanda decorata con i boccali della birra Sclaffer, i diplomi dei concorsi musicali, le coppe delle gare di sci e i vasetti di puro miele locale. Poi il sentiero sale verso il crinale roccioso e il rifugio Klangenford, base delle escursioni. Nel 2003 pensai che era ora di andarla a trovare, l'uomo nero austriaco dal nome sinistramente simile a quello di Hitler. Lo avevo attaccato sistematicamente per anni, denunciando il pericolo che rappresentava per le democrazie europee. Ma poi ero giunto alla conclusione che in Italia c'era di peggio. Mentre la stella dell'austriaco declinava, il populismo mediatico e la xenofobia crescevano in casa mia, a un punto che avevo poco da criticare. Così, dopo aver sentito Berlusconi dare del capò nazista a un europarlamentare tedesco, le urla delle ghista bossi su Europa, Forcolandia e le imbecillità dei padani sui rutti dei tedeschi o sugli extracomunitari da impallinare come i oseleti, decisi che forse era venuto il tempo di rileggere la piccola patria di Eider, l'uomo che aveva attirato sull'Austria valanghe di contumelie e di torsioni. Potevo, già che c'ero, chiedergli di farmi da guida sulle sue montagne. Lui accettò e una domenica arrivai nella sua valle. Ero di nuovo nel segno dell'orso. Dopo i plantigradi nuotatori in Dalmazia e i ladri di miele nella valle dell'Isonso, ora stavo per barcare la Barental in compagnia di un uomo che aveva per mascotte l'orso di Peluscia. La valle di Eider confina con la Slovenia e i giganti alpini arrivano in Austria da lì, dopo lunghe transumanze balcaniche. A fondo valle, mi spiegarono nella locanda, c'era un posto chiamato Sella dell'orso. Gli animali la valicavano ogni anno, attirati dai pingui alveari austriaci, poi passavano a nuoto la drava e migravano a occidente. Era una giornata limpida, non troppo calda, il sentiero zigzagava in un bosco di faggi immensi, pieno di gente con zaini affardellati. Dopo un po' il governatore, che qui porta un nome ancora più altisonante, Lande Schaufmann, arrivò su una jeep bianca e salutò dal finestrino con un servus, il ciao della Mitteleuropa. Mi aveva preso sul serio. Saremmo andati a scalare l'Oxtul, 2237 metri, la piramide rocciosa che chiude la valle sul confine, dritti su per uno sperone che sale dalle ghiaie alla fine del bosco. Lo osservai mentre guidava. Era firmato dalla testa ai piedi. Sacco francese mille, scarponcini tre seta, calze adidas, t-shirt lacoste, giubbetto nero con la scritta Jorg the Iron Man. Aider dicevano è il suo guardarobbo, il suo guardarobbo. Uno che, a seconda dell'interlocutore che ha davanti, passa dai jeans al gessato, dalla tuta della ginnastica ai lederosen, le brache di cuoio del mondo alpino, di lingua tedesca. Pare che si cambi cinque, sei, anche dieci volte al giorno. Stringe mani, si fa fotografare, ricorda le facce di tutti, sa dire a ciascuno esattamente ciò che vuol sentirsi dire. È un fregoli della politica. Aider, spiegato agli italiani, è un berlusconi con le casalinghe, un bossi con i valligiani scarpe grosse, un fini con i conservatori, un casini con i cattolici, un Emma Bonino con i liberal e persino un Bertinotti con i disoccupati. I gitanti lo salutavano. Lui scambiava battute dal finestrino. Dava l'impressione di conoscere tutti quelli che incontrava. Spiegò che i carinziani non erano tirolesi. Non avevano trasformato la loro Heimat in una bomboniera per turisti. Il loro rapporto con Das Land, la terra, era più rustico, contadino. Si fermò in mezzo al bosco, scese per aprire il lucchetto di un passaggio a livello, poi ripartì con la marcia ridotta. Quel diritto di passaggio non nasceva dalla carica politica, ma dalla proprietà. Tutta la valle era sua. Centinaia di ettari di bosco e montagna. L'avevano comprata i genitori negli anni di Hitler, a prezzo stracciato da una famiglia di ebrei. Gli chiesi dove era casa sua. Quale? Posso dormire in quindici case differenti. Mi dispose con un lampo negli occhi, felice di costruire su se stesso il mito di un lupo alla macchia, imprendibile, irreperibile e incontrollabile. Erano finiti gli anni del trionfo e la riscossa poteva cominciare solo da quel luogo rifugio sulle montagne, ma i fedelissimi erano smarriti. Non c'era nessuno dei suoi che sappia davvero cosa Eider faccia e pensi davvero. Mi aveva detto un giorno Erwin Hirtefelder della Kleine Zeitung di Klangefurt. Salimmo per rocce facili, il primo e il secondo grado. Quello che una volta era stato il leone della carinzia, il Robin Hood dei deboli, si muoveva sulla roccia con precisione millimetrica. Mi ricordai che gli avversari avevano preso a chiamarlo Mimosa, deridendolo con il nome di un fiore femminile che avvizzisce alla minima variazione della temperatura. La gente aveva scoperto che il governatore della Carinzia e capo storico della nuova destra austriaca, l'uomo che aveva terremotato le cancellerie di mezza Europa e poi abbattuto il governo di Vienna sfiduciando di imperio i ministri del suo stesso partito, era in realtà una creatura fragile, vanitosa e umorale come un adolescente, smargiasso quando si sentiva forte, ma debolissimo se attaccato. Un'immagine in caduta libera. Ripensai all'onda dell'anno 2000 che era arrivata fino a Vienna partendo proprio da qui. Ora era tutto finito. Finiti le folle statiche, il profumo di torta di mele, le marionette, i palloni aerostatici sulle Alpi. Ora i Carinziani si chiedevano chi fosse davvero l'uomo dei mille volti che li governava. E Heider sentiva che proprio il suo elettore tipo, il piccolo uomo medio, il Kleiner Mesh, si ribellava. Avrebbe voluto avere un capo meno imprevedibile e inaffidabile. Ma anche tra i fedelissimi lo smarrimento era forte. Il partito era senza leader, senza un programma, lacerato da guerre intestine, inchiodato su percentuali da minimo storico. I vinti sono più interessanti dei vittoriosi, gli dissi su un terrazzino dove c'eravamo fermati a fare merenda. Lui convenne che era vero, disse che i vinti sono obbligati a pensare dove hanno sbagliato. A oriente la drava luccicava nelle brume. Salimmo per cordi fisse, la ferrata era tenuta a meraviglia. Jorg mi offrì un sorso di aranciata energetica, rigorosamente di marca. Anche quell'etichetta diceva che il re delle Eimat era in realtà un uomo globale. Dopo due orette in scioltezza eravamo sotto la cima battuta dal vento. Gitanti sloveni sbucavano dall'altro vessante. Molti lo salutavano, alcuni gli dicevano che aveva fan anche a Lubiana. All'orizzonte si profilavano nitide le Alpi Giulie orientali, il Tricorno, il lago di Bled, la valle della Sava. Eravamo in bilico sulla cresta fra i due grandi affluenti del Danubio. Lasciamo la firma nel libro di vetta. Hockstubl, pensai, significa sedia alta. Trono, insomma. Non male essere Aider e possedere una montagna che si chiama così. Rifugio Preseren, in Slovenia, 30 metri sotto la vetta. La robusta proprietaria gli corse incontro, lo abbracciò, quasi lo sollevò da terra. Lui fece battute sloveno, poi ordinò un vino di nome Kvicek e un micidiale salamino coperto distrutto. Pranzando cominciò a parlare di politica e si divertì a prendere le distanze dalla destra italiana. Parlò delle tv del Cavaliere di Arcore. Disse che un simile monopolio sulla stampa in Austria non sarebbe stato possibile. Comunque, aggiunse, Berlusconi e succube di Bush. E questo può essere un problema per l'Europa. E concluse. Davvero non capisco il silenzio di fini. Poi scendemmo a rotta di collo per un ghiaione. L'unico modo, forse, per digerire il salamino sloveno e il vino acidulo, che nel frattempo avevano formato nello stomaco un impasto simile alla plastilina. Finimmo con una birra al rifugio Klagenfurt, quota 1660, in mezzo a un mare di austriaci percorsi da ondate tipicamente nordiche di larità collettiva. Una chitarra accennò il motivo di Alte Kamaraden, vecchi camerati. Una canzone che quando la senti non sai mai se parli di compagnoni di guerra o di montagna. Il nostro festeggiava, si faceva fotografare docilmente. Alla fine, da in mezzo alla folla, sbucò una brununa italiana, tutta scollata, che lo abbracciò urlando. Mi riconosci? Do you remember me? E lui ovviamente ricordava. Si congedò all'improvviso, impensierito da qualcosa, e sgommò via sul suo fuoristrada. La sera finì in una pizzeria di Roseg su un'isola della Drava e incontrai per caso alcuni naufraghi dell'onda bruna. Venivano da Welden e fra una margherita e un cabernet ruminavano tutta la delusione dei piccoli funzionari di partito. Avevano lavorato per nulla, dicevano, senza un briciolo di riconoscimento, mentre il capo promuoveva pretoriani di bella presenza e di dubbia moralità. Dicevano che il Fubreprinzip, la centralità del capo, era a pezzi. La legge del branco non valeva più e ora i lupi subalterni si preparavano a attaccare il capo. Era tutto così strano. A determinare la caduta di Heider non erano state le sanzioni dell'Europa, la reazione della società civile e nemmeno le proteste di piazza organizzate per settimane contro di lui a Vienna. Era stato, dissero gli ex pretoriani sulla Drava, un suicidio in piena regola. L'uomo che aveva sadicamente pugnalato tanti suoi camerati, ora procurava morte analoga a sé medesimo. Non c'è niente di razionale in questa corsa autodissolutoria, rise Bertram Carl Steiner, che ero per il resto. Mi disse che a sinistra ironizzavano dicendo, danke Jorg, rigirando il coltello nella piaga. Grazie compagno Heider per i voti che ci regali con le tue follie. Più tardi lungo la Drava incontrai un vecchio in mezzo a un campo di segali. All'ombra di un tiglio scolpiva un tavolo e una panchina per dare ristoro ai camminatori di passaggio. Sulla panca aveva inciso Josef Platz, il posto di Josef, il suo. Mi accompagnò nella sua casa con stalla e due camere per gli ospiti. Nel suo ufficio usava internet per i movimenti bancari. Apparecchiò e preparò la cena, poi disse che usciva per le prove del coro. È trent'anni che canto, disse. Non posso mancare. Nella stube c'era un diploma di appartenenza di lungo corso a una confraternita bandistica. Pensai che i liberi contadini italiani avevano smesso di cantare da tempo e che in fondo Heiderlandia si faceva perdonare in fretta.